Il pomeriggio Dovete venire il pomeriggio la sera questo è un casino bevono vino bevono liquori mischiati con coca cola si drogano pure e nessuno dice niente male che va che ci disegna un'altra volta e poi verrò di nuovo fate un ritocchio sono arrivate fino alla quello l'hanno fatto da poco sono in giro